Prima di condividere gli avvenimenti di oggi, desideriamo chiedere il vostro prezioso sostegno. Un semplice gesto come un «mi piace» a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore, una svolta imprevista ha colpito Rai 1 oggi, 12 novembre, con la sorprendente cancellazione della puntata di domenica, inizialmente programmata con la partecipazione di ospiti illustri. La presenza di Venier è stata compromessa a causa di sintomi influenzali, che successivamente sono risultati legati al Covid-19. Negli scorsi giorni, i sintomi influenzali si sono intensificati, confermando oggi la positività al Covid. Nonostante la situazione, Venier sembra essere determinata a riprendersi presto. La conduttrice si è mostrata combattiva come sempre, con la voglia di tornare al più presto a lavorare e tenere compagnia al suo pubblico. Noi le facciamo gli auguri di una pronta guarigione. Questa improvvisa indisposizione segna anche la fine di un'era per, domenica in, convenier annunciando che questa sarà la sua ultima volta alla guida del programma. In un'intervista precedente, la conduttrice aveva condiviso il significato speciale di quest'anno, celebrando i 30 anni dalla sua prima, domenica in. Grazie! Grazie!